E' ritornato il suo posto il pesante cancello che lo scorso mese di febbraio era caduto a terra senza coinvolgere nessuno ai cantieri dei carri di carnevale di Viale Piceno. Il tutto grazie alla volontà di due persone, Luca Tonucci e il figlio Andrea, il primo artigiano che lavora il ferro e il secondo titolare di un'azienda agricola, entrambi trattoristi della manifestazione. In questi anni ci siamo fatti tanti amici del carnevale, Luca e Andrea Tonucci si sono resi disponibili a riparare il cancello, ovviamente coadivati dall'ingegner Marangoni, da Cristina Fenocchi che è la nostra consigliera e da Marino Scarcelli. Tutti amici del carnevale che all'occorrenza si adoperano sempre con grande amore verso questa manifestazione, quindi ovviamente li ringraziamo di cuore e quindi insomma il cancello è riparato e stiamo più tranquilli. Un intervento a costo zero, aggiunto poi Gian Marioli, per riparare il tutto avremmo dovuto investire circa un migliaio d'euro. Ovviamente in questi giorni, essendo tutto aperto, malintenzionati rischiavano di entrare e magari rovinare altro all'interno dei cantieri. E proprio la mancanza del cancello ha fatto sì che a fine febbraio alcune persone hanno forzato la porta d'ingresso del capannone lato mare rompendo il vetro. Ringrazio ovviamente anche Stefano Currina di Gommapiuma per Caso perché ha riparato il vetro che qualche malintenzionato aveva rotto durante il periodo in cui il cancello era divelto e quindi adesso ci siamo rimessi più o meno in paro. Ecco, quindi questo per dire che ancora qualche buon cuore c'è, anzi sono sicura che ce ne sono tanti, quindi ovviamente sappiamo che la nostra città è sempre attenta sul carnevale e poi come vediamo quando c'è bisogno arrivano. Quindi bene, questo è un buon segno di cittadinanza attiva. E se da una parte la generosità e la buona volontà di qualcuno ha portato alla sistemazione del cancello, dall'altra lo stato in cui versano i cappannoni dei cari allegorici di Fano rimane ancora precaria e al momento nessuno del comune, proprietario dei tre stabili, è ancora intervenuto per sistemare infiltrazioni d'acqua, portoni ammalorati e mancanza di spazio. No, dall'ultima volta non abbiamo avuto nessun riscontro, però continuiamo a essere fiduciosi.